In Giovanni 9, versetto 13. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Capitolo 9, versetto 13. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli ha perso gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco, e tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? E gli disse, è un profeta. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista finché ebbero chiamati i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro, e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori risposero loro e dissero, noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda? O chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero, è adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, dai gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli allora rispose e disse, se sia peccatore non lo so, ma una cosa so che prima ero cieco e ora ci vedo. Gli chiesero di nuovo, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro, io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Essi perciò li ingiuriarono e dissero, tu sei il suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro, ebbene è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato? Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo e gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Egli rispose e disse, chi è signore perché io credo in lui? E Gesù gli disse, tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse, io credo signore e l'adorò. Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Benedisci i cuori che ascolteranno e benedici in me che parlerò. A me. Accomodatevi. Ci troviamo davanti a un'operazione di Gesù spontanea. All'inizio del capitolo 9 gli chiedono, ma è colpa sua dei genitori? Gesù dice, non è colpa di nessuno. Ma questo è perché vengono manifestate le opere di Dio. Allora il Signore prende l'iniziativa, il cieco non gli chiede di essere salvato. Giusto? Gesù prende l'iniziativa. Quanti di noi vorremmo che Gesù prendesse delle iniziative con noi? Amen. Ma non credo che nessuno di voi vorrebbe essere cieco nato. Gesù prende l'iniziativa, prende la persona più malata, da più tempo malata e sicuramente cieca perché è nato cieco e perché è conosciuto da tutti come cieco. Gesù poteva prendere qualcuno che era diventato zoppo, qualcuno che avesse una disabilità inferiore o un'infermità minore. Gesù prende il massimo, il massimo per dimostrare la sua grandezza e la sua autorità e per rincuorare i discepoli. E perché nella sua divina luce ha voluto aiutare questo cieco nato che neanche gli ha chiesto aiuto. Guardate, Gesù è così buono che anche quando le persone non gli chiedono aiuto lui va in soccorso. Quando guarì i dieci lebrosi, li guarì tutti e dieci, uno solo torna indietro. Lui lo sapeva, ma li guarì tutti e dieci. La grazia di Gesù noi non riusciremo mai a comprenderla perché noi magari avremmo pensato ma se nove non tornano indietro allora io non li guarisco. Ma il Signore fa così. Lui fa del bene a chi vuol fare del bene e lo vuole fare sempre. E non sta a noi pensare se quella persona era adatta a ricevere il bene. Dio lo fa e basta. Perché voglio dirvi anche questo, nessuno di noi era adatto a ricevere il bene da Gesù. Eravamo tutti morti nei nostri peccati. Gesù è venuto e ha preso i nostri scheletri alle risuscitati dalla tomba. Alleluia. Gloria al suo nome, dandoci la sua vita. Quando lo Spirito Santo ha applicato al nostro cuore la sua parola. È incredibile la resurrezione spirituale che noi abbiamo avuto in Lui. Ora, il cieco non ha visto Gesù, non ha visto i miracoli, non lo conosce e forse non si interessava neanche perché era talmente carico dei suoi problemi che non poteva interessarsi di altro. Quando una persona vive il suo problema, quelli degli altri, anche se lo sensibilizzano, ma è troppo preso dalla sua cecità, dalle sue preoccupazioni di tirare avanti giorno per giorno. Non c'era pensione, non c'era sostegno, non c'erano case di accoglienza. Quindi quest'uomo doveva ogni giorno cercare di reperire l'ordinario, il cibo, le poche cose, qualcuno che l'accompagnasse, magari in bagno a fare la spesa. Questo cieco viene chiamato Gesù, sente la voce del Signore. E attraverso il fango può percepire il tatto. Ha visto ben poco. Eppure quest'ex disabile, quest'ex cieco, in una concitazione, in uno scontro con i potenti dell'epoca, non abbassa il capo, e in un crescendo di fede riceve rivelazione sempre maggiore di quell'uomo. Lo conosce come uomo, quell'uomo, è un uomo. Va bene? Non ha nessun tipo di rivelazione ma comincia piano piano, passa da una cecità interiore a luce interiore. Il recupero della vista gli dà anche il recupero della vista del cuore. E comincia a vedere piano piano, perché noi non possiamo vedere all'improvviso la grandezza di Gesù. Cominciamo a inquadrarlo. Vi ricordate Gesù quando chiese ai discepoli, chi dice gli altri, il popolo, che io sia? E cominciano a dire Geremia, i profeti, tutti quanti. Cioè, quando noi parliamo con qualcuno che non conosce la grandezza di Gesù, ci dirà che Gesù è stato un grande, ma non dirà mai che Gesù è il figlio di Dio, il Messia, se non lo riceve per rivelazione, come lo ricevette Pietro e come l'abbiamo ricevuto ognuno di noi. Noi prima crediamo e poi lo Spirito Santo ce lo conferma. Allora, questo cieco comincia a disarmare i religiosi. Ma come ti ha guarito? Cioè, fratelli e sorelle. E' come se noi davanti al miracolo che abbiamo appena sentito cominceremo a chiedere, ma come? Ma come è successo? Ma cosa è successo? Invece di guardare il lato finale, ossia, invece di esultare che il cieco vedeva, che un cieco nato era stato guarito, che un uomo nella schiavitù totale veniva liberato, andiamo a vedere come chi l'ha fatto. Fratelli, questo si tratta una cosa che i veri ciechi erano quelli che vedevano. Non era il vero cieco. Non vedevano niente. Avevano gli occhi chiusi. Come? Come mi ha liberato? Come ha guarito? E lui li disarma. Perché? Cosa fa? racconta con estrema semplicità quello che il Signore ha fatto in due frasi. Lui mi ha chiamato, mi ha messo sul fango degli occhi. Magari non ha manco sentito che Gesù ha sputato nel fango. E mi ha guarito. Fratelli, i miracoli del Signore sono di una straordinaria semplicità. Ma come è che Gesù fermò la tempesta? mica che io mi ho gli angeli con la sua voce con la parola con la sua voce senza sonar e senza radar è stato quello che ha pescato di più. Chi nella descrizione nelle azioni di Gesù non c'è niente di pomposo non c'è niente di alterato non c'è niente di vanità né nell'opera che fa né nella persona che lo fa rimane semplice disarmante perché tutta la gloria deve andare a Dio. È chiaro non ci sono tante pensieri o storie da raccontare il principio è uno quando noi raccontiamo la salvezza Gesù è morto per te noi a volte vogliamo convincere le persone raccontando tutta una serie di storie Gesù è morto per te sulla croce tu sei un peccatore il più grande miracolo è questo che Gesù è morto ed è risorto per te è un messaggio semplice che a volte cerchiamo di sostenere con varie argomentazioni ma di una semplicità assurda io sono morto nei peccati Gesù è morto per me ha preso il mio peccato sulla croce e sono risuscitato con lui noi a volte anche noi ci facciamo tante storie ma che devo fare che cosa non devo fare la prima cosa è assicurarti che sei salvato studiati di confermare la tua vocazione la salvezza viene confermata non è una sola volta devi ricevere la conferma della tua se appartieni a lui la salvezza viene vissuta ora il cieco un'altra cosa chiedono sempre il come e io immagino che vorrebbero avere argomenti per parlare e nella sua semplicità nella sua parola mi sono anche ricordato vi ricordate al generale Siro cosa disse il profeta Eliseo gli mandò incontro un servo vai a lavati sette volte nel Giordano lui non voleva lavarsi perché pensava adesso verrà farà chissà quale scena religiosa è vero ma poi c'erano dei servi vicino a lui che lo conti ma l'avresti fatto perché non lo fai e fu guarito voglio dire che Dio nella sua straordinaria semplicità opera e non lascia i suoi senza operare e quando opera lui opera in un modo definitivo e questo cieco comincia a raccontare quello che lui pensa di quell'uomo non sa chi è Gesù non ha visto i suoi discepoli e comincia a dire ma tu chi dici adesso la domanda mi sembra strana cioè i religiosi che dovevano sapere chi era Gesù che dovevano sapere il Messia chiedono a lui tu chi dici che lui è e lui dice è un profeta non ha fatto profezie Gesù vicino a lui né ha fatto una grande predicazione né ci sono stati dei grossi canti no ha fatto un'azione lui ha percepito la voce di Gesù ha percepito le mani del Signore dietro al fango e ha ritenuto che quell'uomo che lo toccava dietro al fango e che gli parlava e che gli diceva di andare alla piscina alla vasca di Siloe fosse un profeta fratello sorella cosa pensi tu di Gesù hai ricevuto molto più di questo cieco o no hai ricevuto molto più di questo cieco è vero hai ricevuto la parola di Dio hai sentito i miracoli di Dio hai sentito uomini di Dio sei cresciuto nella scuola domenicale hai visto la grazia del Signore a quest'uomo è bastato poco noi abbiamo avuto tanto dovremo ancora di più testimoniare ed essere fermi nella nostra fede a credere che Dio è sovrano e che ha il di sopra di tutto e che va riconosciuto davanti a tutti allora dicono no è un peccatore e allora quest'uomo quest'ex cieco che comincia a vedere quelli che ha di fronte è vero che si aspettava la gioia dei genitori i genitori l'abbandonano l'abbandonano i religiosi gli sono conto ma come io sono guarito i genitori non mi riconoscono perché hanno paura di essere espulsi dal cerchio ricordatevi quello che sto dicendo adesso espulsi espulsi dal cerchio dalle amicizie espulsi dal contorno dalla società i cristiani vengono espulsi tu non puoi stare bene vicino a chi è sporco non che non ci stai tu ma sono loro che ti rifiutano dici non chiamiamo a telefono questo ragazzo questa ragazza dici no quello è antipatico è una scusa loro non sopportano la tua santità è un prezzo che devi imparare a pagare non ti puoi conformare a loro se noi siamo luce siamo un contrasto nelle tenebre se noi siamo luce diamo fastidio a chi nelle tenebre se facciamo le opere delle tenebre c'è una sola risposta sei tenebre anche tu allora fratelli e sorelle furono i genitori avevano paura e non lo riconobbero i religiosi facevano le domande il cieco l'ex cieco dice io non lo so però so che Dio non esaudisce i peccatori e lui non avrebbe potuto fare niente se Dio non era con lui lui riconosce davanti a tutti rischia ed è disposto a pagare il prezzo di uscire fuori dalla sinagoga di uscire fuori dal contesto dal centro di lasciare i suoi amici di lasciare i suoi genitori per onorare un uomo che non conosce ancora capite fratelli e sorelle il prezzo il prezzo di ricevere lo scherno l'offesa di non potersi ribellare perché stava davanti a un ordine costituito è disposto a tutto e riconosce una cosa dobbiamo sottolinearla l'ho detto già altre volte ma se noi pecchiamo Dio non ci risponderà giusto? lo dice la parola me lo dico io se noi dopo aver conosciuto il Signore possiamo sbagliare sì possiamo commettere errori l'ho detto già altre volte ma se rimaniamo nel peccato Dio non risponderà alle nostre preghiere beh afferra questo concetto perché il diavolo ti dirà sempre il contrario ti dirà ma Dio è buono Dio è misericordioso sì è vero ma Dio è santo Dio è giusto Dio è l'onnipotente e Cristo dentro di te non accetta lenzuole sporche ricordalo afferralo questo concetto allora andiamo avanti ora quest'uomo viene cacciato fuori viene cacciato fuori è come se tu giovane per testimoniare della tua fede vieni cacciato fuori dai tuoi amici è come se tu sorella fratello vieni messo vieni emarginato per la tua fede per la tua fede perché stai raccontando agli altri che Gesù è buono che sei diversa che sei diverso ti allontanano perché non sopportano che sei una persona giusta onesta onesta casta pulita che non ridi alle barzellette sconce neanche le accetti che non vuoi sentire le bestemmie allora in un certo modo stai fuori ossia non ti possono accerchiare nel loro modo di vivere ti tengono fuori e devi ringraziare Dio se ti tengono fuori perché vuol dire che veramente stai nella grazia del Signore e ricordati una cosa quando stai fuori succede un altro miracolo chi è che era stato cacciato fuori? il cieco? a chi va a prendere Gesù? allora Gesù è il grande cacciato lui è stato cacciato fuori dal suo popolo e va a raccogliere tutti quelli che sono stati cacciati gli altri ti cacciano Gesù ti raccoglie e lo stare con Gesù per il cieco vale più che stare con i suoi genitori che stare nella sinagoga che stare nell'ambiente sociale con i suoi amici perché lo stare con Gesù riempie e soddisfa la tua vita più di ogni altra situazione di ogni altra circostanza è Gesù che riempie la nostra vita tutto è lui è lui non è mia moglie non sono i miei figli essi fanno parte della mia vita ma è Gesù che li riempie perché senza Gesù anche loro uscirebbero lo afferrate questo concetto se non mettiamo al primo posto e non metti al primo posto Gesù Cristo perderai anche gli affetti più cari perché Gesù è l'unico che ti fa apprezzare quelli attorno a te allora il grande cacciato va a raccogliere l'ex cieco e dice credi tu nel Signore c'è colui che ha difeso Gesù colui che ha detto che è un profeta sale in pochi poche ore non lo so quante sono sette, otto ore cinque ore Gesù si presenta a lui in poco tempo arriva da lui e dice credi tu credi vi rileggo credi tu nel Figlio di Dio e devo dire sempre l'ex cieco perché non so il nome e il nome non c'è stato dato proprio perché rimanesse questo la parola è stata precisa perché sicuramente l'Evangelista Giovanni l'Apostolo sapeva il nome di questo cieco ma lo Spirito Santo gli ha spinto a non scrivere nomi proprio perché rimanesse l'opera che ha fatto allora chi è Signore perché io creda in lui quest'uomo è disponibile ha ricevuto una grazia è stato cacciato fuori ma non è irritato non ha rabbia è stato cacciato fuori ma il bene che ha dentro è quello che ha ricevuto è più grande non è stizzato gli va uno vicino dice chi è Signore è disponibile chi ha ricevuto una grazia nel cuore è stato liberato dalla rabbia dalla stizza cominciare cioè se tu hai ricevuto Gesù come fai a stare stizzato come fai a svegliarti storto comprendete fratelle e sorelle allora allora tu la e Gesù gli disse tu l'hai visto è proprio colui che ti sta parlando cioè la voce che gli ha detto vatti a lavare la sente un'altra volta ora lui è cieco ma non è sordo e voi sapete fratelli che le persone le persone cieche sviluppano un udito una sensibilità maggiore al tatto all'udito è vero è proprio per un problema di di compensazione allora io credo fratelli che lui ha sentito la voce ha sentito la stessa cosa questa è la stessa voce è quello che mi ha detto che mi devo andare a lavare e allora che ha fatto io credo Signore e non perde neanche troppo tempo non si fa troppe domande l'adorò fratelli ma che c'è da fare con Gesù se no adorarlo vi ricordate Gesù dove fu crocifisso fuori dal campo vi ricordate che i magi persero la stella quando entrarono in Gerusalemme nella confusione religiosa ma appena uscirono la rividero si tratta di uscire fuori di perdere delle amicizie di perdere quelli che fanno i soliti complimenti alle donne al gioco i soliti le solite stupide battute fratello giovane amico paga il prezzo per Gesù Cristo perché solo così lo incontrerai chi è disposto a pagare il prezzo incontra colui che ha pagato il prezzo più alto e Dio lo onora e Gesù l'onora con la sua presenza a Gesù non si è fermato a guarire la sua cecità si è presentato lui che è più grande di ogni miracolo capite fratelli e sorelle gloria a Dio abbiamo un grande Signore che agisce con semplicità non complicatevi la vita quando il Signore si muove e noi siamo fedeli nella sua volontà fedeli nella sua parola Dio opererà non vi muovete dalla sua parola dalla sua volontà non vi muovete e se sentite voce a destra e a sinistra rimanete fermi nell'ubbidienza e soprattutto una cosa giovani nella santità perché questo darà a Dio la come dire il piacere di benedire la vostra vita vogliamo yes grazie a tutti 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 grazie a tutti